Pace a tutti, buonasera, è sempre un piacere stare con tutti voi, è una gioia per me poter esprimere quello che Dio mette nei nostri cuori ogni giorno perché come serve del Signore lo serviamo sempre, non c'è riposo come in Cristo, non c'è stato riposo quando Lui è venuto nella terra così non c'è neanche noi perché Cristo è il nostro riposo, noi riposiamo già in Lui e per noi è una gioia poterlo servire, lo serviamo perché lo amiamo e lo vogliamo sempre amare e sempre servire. Stasera voglio trattare un argomento che sento nel mio cuore perché le circostanze che noi passiamo tutti i giorni della nostra vita sono circostanze non sempre belle, ci sono circostanze belle e circostanze meno belle, non voglio chiamarle brutte proprio per non creare un clima di insoddisfazione, però sappiamo che in realtà è tanto il bisogno e tante sono le cose che attraversiamo, che a volte ci scorreggiamo per andare avanti e ci freniamo, però Dio è sempre nelle nostre circostanze, Dio è sempre nel nostro caso, ma se in questo caso tu attraversi, quelle circostanze che tu attraversi, il Signore è con te e voglio pregare che lo Spirito Santo possa parlare attraverso questa parola che stasera voglio esprimere e possa parlare direttamente ai cuori di coloro che stanno passando un periodo difficile. Signore nel nome di Gesù voglio chiederti un intervento soprannaturale, tu sei il Shadali di Onnipotente, Geoagia era colui che provvede per ogni circostanza e per ogni bisogno, per ogni situazione o caso che noi attraversiamo. A volte noi vogliamo fare da soli e non ci riusciamo, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che tu possa intervenire in noi, per noi, a nostro favore e noi vogliamo chiederti questa sera che possa tu intervenire nei cuori della gente che sta ascoltando o chi, Signore è credente, chi ancora non è, non ha dato la vita a te, che possa capire che tu ci sei per tutti, perché la tua parola, Signore, è stata chiara e tu sei venuto per il mondo e dato la vita al tuo figliore Cristo Gesù, affinché chiunque crede in te non perisca ma abbia la vita eterna. E noi vogliamo, Signore, che questa sera tu possa parlare ad ognuno di noi. grazie perché tu interverrai per certo nelle persone che stanno sperando in te, in quel caso o in quella circostanza, Signore, di bisogno tu sarai lì, tu sarai lì, Signore, in quella persona, in quell'uomo, in quella donna, in quel giovane, in quella famiglia che sta chiedendo aiuto. Indarvieni per ogni circostanza. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Proprio la parola di stasera che voglio trattare è che Dio è nel tuo caso o nella tua circostanza. Prendiamo Geremia, capitolo 32, verso 26, nella scrittura, se la proiettiamo così la leggiamo insieme. Geremia, capitolo 32, verso 26, dice così Ecco, verso 27, io sono il Signore, Dio di ogni carne, c'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Verso 27 lo afferma, Dio è nel tuo caso, Dio è nella tua circostanza, qualsiasi sia e anche se è difficile, e anche se per te è impossibile, Dio sta dicendo c'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Se Dio è nel nostro caso, se Dio è nella nostra circostanza, è per due motivi. Numero uno, perché Dio ti ama e non ti ha mai lasciato solo. Non ti ha mai lasciato fuori la porta. Se tu hai bisogno, se tu hai necessità, Egli ti ha sempre accorto, perché Egli ti ama. Ha dato suo figlio per te. Per te che stai ascoltando. Non c'è per te di serie A, non c'è per te di serie B. Per tutti coloro che credono in Lui e gli ha dato il suo figliolo Cristo Gesù a morire nella croce per salvarci. Numero due, Egli ha progetti speciali per noi. Faccio numero uno, Dio è nel nostro caso e nella nostra circostanza perché ci ama. Numero due, ha progetti speciali per noi. Noi conosciamo l'esempio dell'uomo Giobbe nella Bibbia. All'inizio quest'uomo viene rappresentato come un uomo ricco, benestante per il suo tempo, per la sua nazione, un modello di benedizione da parte del Signore. Ma in una sola notte, attraverso un bruttissimo periodo della sua vita, un difficile periodo, Satana si schierò tutto contro di Lui, uccise i suoi figli, distrusse i suoi beni e nel secondo giorno che si ammalò. Faccio da un uomo ricco, da una buona circostanza, da una buona nazione, niente passò un brutto. Ma in quel caso, in quella circostanza, Dio fu con lui. Non l'ho mai abbandonato e alla fine di questa storia noi vediamo che Giobbe vinge con Dio. È quello che avessi, dall'inizio, Dio lo restituì, abbondanza. Amato che mi ascolti, non conta il principio di come vanno le cose. Quello che conta è la fine. Se oggi tu stai attraversando un momento difficile della tua vita, stai passando un caso, una circostanza difficile, non conta questo. Se Dio è nel tuo caso o nella tua circostanza, devi vedere come va a finire. Non sto dicendo che Dio a tutti raddoppia le benedizioni perché va a essere difficile. una cosa eccetto. Se Dio inizia a trattare con te, con me, le cose cambieranno in positivo. E voglio leggere il Sammo 130 nella scrittura che ci fa capire, ben ghiare, quello che voglio io dire. Dal verso 1 fino al verso 8. Leggiamoli insieme. Questo Sammo 130. dice Canto dei pellegrini, dei pellegrinaggi. Oh Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attende al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore. L'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore. Più che le guardie non anelano al mattino, più che le guardie al mattino. Oh Israele, spera nel Signore poiché presso il Signore è la misericordia, è la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Io ho suddiviso questo Salmo 130 in cinque parti. Il verso 1 sta dicendo che il salmista grida a Lui nei luoghi profondi. Grida a Lui nella profondità, nell'incertezza, nel buio, nella difficoltà porta la sua causa al Signore. E nella sua profondità, nel suo dolore, Egli guarda in alto e gli grida a Dio. Amati, ricordiamoci che il tempo delle cose quando vanno bene non ci pensiamo agli altri, non ci pensiamo a Dio. Forse tante volte disprezziamo le persone perché ci troviamo in cima, non abbiamo bisogno di nessuno, non abbiamo bisogno di niente, ma quando ci troviamo nella profondità, quando ci troviamo nella difficoltà, capiamo che noi abbiamo il bisogno di qualcuno che ci può aiutare e allora guardiamo in alto, dal basso verso l'altro. Ma quando stiamo bene, noi guardiamo dall'alto verso il basso. Qui il salmista sta guardando da una posizione di bisogno dal basso verso l'alto perché sta gridando aiuto al Signore e poi succede qualcosa nella vita quando tutto va bene c'è un ribaltone come è stato nella vita di Giobbe un inizio meraviglioso un uomo importante ricco ma un ribaltone di una sola giorno di un solo giorno successe nella sua vita e da uno stato di alto fu portato in uno stato basso di disperazione è l'unica via per poter uscire e riguardare a Dio che può tutto pienamente numero due questo salmo dice che le lacrime la disperazione che era rivolta verso Dio era come un pane quotidiano cominciò a pregare il salmista con lacrime le lacrime noi sappiamo cosa sono sono un'espressione sono delle gocce di umore sapete ci sono tante celebre frasi sulle lacrime c'è una frase che mi viene in mente che dice se non hai mangiato con le lacrime agli occhi non conosci il sapore della vita Gesù stesso piange davanti a un bisogno piange quando il suo amico Lazzaro era morto quelle gocce di lacrime che a volte noi versiamo e perché a volte circostanze siamo non siamo pronti di quello che a volte ci capita ci disperiamo non sappiamo il perché siamo in una posizione di così profondo dolore che non riusciamo neanche a reagire e ci chiudiamo e piangiamo davanti a questa circostanza ma amati le lacrime fanno la differenza la fanno a volte in bene o la fanno in male ma le lacrime sono il ghiaccio che si scioglie della nostra anima a volte a volte le nostre lacrime sono il linguaggio silenzioso di quello che noi stiamo attraversando nella nostra vita e il verso 2 proprio del Sammo 130 dice Signore ascolta il mio grido siano le tue orecchie attendere il mio grido d'aiuto e il più potente grido non è la voce elevata ma il piangere nel silenzio Davide capiva questo Davide lo attraversò questo e nel Sammo 51 verso 17 dice queste parole queste frasi sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto tu Dio non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato ecco la condizione di bassezza e nella condizione di bassezza ci spinge a guardare in alto e chiedere con lacrime al Signore un intervento per noi per la nostra famiglia per il nostro matrimonio per i nostri figli per la nostra società a Dio non piace un cuore orgoglioso ma ce lo dico quando le cose andavano bene c'è la tentazione all'arroganza non siamo accessibili non ci fermiamo non ci possono parlare non possono insegnarci siamo anche maestri sappiamo tutto ma quando abbiamo difficoltà ascoltiamo ci fermiamo ci umiliamo e Dio ministra alla nostra vita Dio guarda dal cielo e dice su di noi io ho grandi progetti per te ma non ti potevo usare prima per portarti dove io volevo ma ora nella condizione di disarmo della tua vita io ti prenderò nelle mie braccia e ti porterò in luoghi di pascoli di tenera erba in luoghi migliore Giobbe arrivò al fondo ma tornò in superficie più forte di prima amato che mi ascolti se stai passando un momento difficile e hai toccato il fondo ti trovai in una situazione bella avevi una bella famiglia avevi un bel rapporto matrimoniale avevi un buon rapporto con i tuoi figli e tutto ciò in un niente e svanito sappi che Dio in questo momento è vicino a te per aiutarti egli non si è dimenticato di te egli ti prenderà con le sue mani e ti porterà in luoghi migliori perché sa che ora può lavorare con te sa che ora in questo momento sei disarmato e lui ti darà le armi per poter vincere tutta l'astuzia del nemico verso di te affide dal Signore affide la tua vita al Signore affide la tua casa al Signore numero tre dobbiamo piangere con la misericordia il nostro atteggiamento verso Dio e verso le cose di Dio sono atteggiamenti di umiliazione per avere una benedizione chi si abbassa sarà innalzato Dio nella sua grande misericordia si abbassò si umiliò per innalzarci e se noi nella sua grande misericordia facciamo appello a lui egli ci benedirà ricordati che Dio è sovrano su ogni cosa lui può decidere se dare o non dare a te attraverso la sua misericordia lui ha pietà di ognuno di noi perché perché egli è un Dio compassionevole pieno d'amore Dio è amore siamo noi che purtroppo abbiamo smesso di amare perché abbiamo ricevuto dolore sofferenza ma quando ci rimettiamo nelle mani del Signore di nuovo Egli ci aiuterà a perdonare affinché saremo perdonati Dio è compassionevole il Salmo 145 verso 8 dice il Signore è misericordioso e pieno di compassione lento all'ira e di grande bondà Dio è compassionevole non è come noi non ricambia l'ira non agisce velocemente Dio ci aiuterà perché Lui sa che tu hai bisogno in questo momento nella tua vita di rialzarti Lui sa che tu non ce la fai a reagire ti aiuterà a farlo perché è compassionevole verso di noi non ci ha mai lasciati soli non ci ha mai abbandonato non ascoltare la voce del diavolo che ti dice che Dio ti ha abbandonato che tutti ti hanno abbandonato sappi che Dio è presente nel tuo caso sappi che Dio è presente nella tua causa egli è sovrano su ogni cosa non puoi dire a Dio è difficile questo argomento questa cosa che sto passando questo periodo difficile egli è sovrano su tutto Paola e Romani capitolo 9 verso 14 dice così verso 14 15 e 16 Romani capitolo 9 che diremo dunque vi è forse ingiustizia e in non diciamo certo perché egli dice a Mosè io avrò misericordia di che avrò misericordia e avrò compassione di che avrò compassione non dipende dunque né di chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia tu pensi che Dio non sa quello che stai attraversando tu pensi che Dio non sa che cose ti stanno facendo tu pensi che Dio non sa la malattia che tu hai quello che tu stai vivendo Egli è misericordioso al di là di tutto quello che tu stai pensando di tutto quello che ti sta accadendo Dio può intervenire e spazzare via ogni cosa e ristabilire di nuovo una vita di gioia non di dolore per te e per me ma noi dobbiamo vedere una cosa che ha causato tutto questo è il peccato dobbiamo vedere perché siamo arrivati a questo punto dobbiamo capire che abbiamo fallito alcune cose e finché non siamo in grado di vedere il nostro peccato non possiamo avere convinzione di peccato ecco perché ce la prendiamo con tutti perché a volte le difficoltà ce le hanno create gli altri noi siamo stati buoni non è vero davanti a circostanze come queste che stai attraversando non puoi dire tu sei buono gli altri sono i cattivi no in questi stand non capire il bisogno la necessità di vedere che anche noi abbiamo fallito è il verso 3 del salmo 130 dice se tieni conto delle colpe signore chi potrà resistere allora è meglio che il signore non guarda quegli sbagli che abbiamo fatto noi noi guardiamo quegli sbagli che fanno gli altri ma quelli nostri non li vediamo e a volte è proprio questo che ci ha impediti di essere benedetti da parte del signore questo è quello che accade a recidivo non una volta ma tante volte amati che mi ascoltate la necessità spirituale si impadronisce a volte di noi e diventa un qualcosa di irragionevole di irraggiungibile e non possiamo in questa maniera attirare la sua attenzione e Dio deve abbatterla questa necessità spirituale affinché possa trattare con noi e a volte questi momenti che accadono nella nostra vita è perché Dio sta lavorando con noi sta battendo la nostra necessità spirituale per farci capire che tutto quello che stiamo attraversando a volte è anche causa nostra Dio è nel nostro caso Dio è con noi e quando inizia a trattare con noi Dio sa come stiamo veramente Dio sa che guardandoci capisce la condizione del nostro cuore Dio sa e registra tutto gli avvenimenti della nostra vita tutto quello che noi abbiamo fatto e tutto quello che noi facciamo e che noi faremo tutto è registrato da Dio perché Egli è interessato a noi cambia posizione cambiamo posizione cerchiamo il Signore affinché restituisca il perduto nella nostra vita quinta cosa la confessione non c'è niente di più grande del fatti perdonare da Dio verso 4 nel Salmo 130 dice nel Salmo che abbiamo letto nel Salmo 130 verso 4 ma presso di te è il perdono perché tu sia temuto non c'è niente di più grande lo voglio ripetere del farci perdonare da Dio ah che sollievo Davide conosceva il peso del peccato il macigno del peccato la schiavitù del peccato le catene del peccato a tal punto che dice nel Salmo capito San Mosè verso 2 abbi pietà di me o Signore perché sono svinito risanami o Signore perché le mie ossa sono tutte tremande conosceva conosceva il peso del peccato a tal punto che era svinito stango oppresso le ossa stesse ne risentivano perché quando le cose vanno bene gioia e allegria accompagnano il nostro atteggiamento e il nostro corpo ma quando le cose non vanno bene a che dolore e sofferenza a tal punto che non ci alziamo dal divano che vogliamo stare soli che ci prende la depressione che non vogliamo vedere nessuno e l'abbiamo con tutti Davide invece capì di aver sbagliato e disse Signore è una condizione che mi sono regato è una condizione che è venuta nella mia vita è una condizione che se ne deve andare se tu intervieni la prendi e la togli nel nome di Gesù Alleluia il Signore è con noi il Signore è nella causa nel tuo caso egli non ti ha mai abbandonato Davide soffrì disse a tal punto che nel suo cuore a causa della sua ira non c'erano requie per le sue ossa a causa del suo peccato non c'era il refrigerio non permettere che il peccato ti fa stare così male non permettere che il peccato distrugge i rapporti con gli altri non permettere che il peccato sia la condizione di sofferenza e dolore per il resto della tua vita egli non ci mette faccia a faccia con il peccato sai perché? perché non ci vuole far sentire orribili egli ci mette faccia a faccia con lui che è amore egli può aiutarci lo spirito santo verrà disse Gesù e vi convincerà non solo di peccato ma anche di giustizia perciò egli è giusto e se noi capiamo che Dio è giusto noi mettiamo la nostra vita a posto davanti al Signore egli ci mostra ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce del Calvario è il verso 8 del Sammo 130 e finisco qua perché penso che il messaggio è rivolto a te che mi stai ascoltando dice egli redimerà Israele da tutte le sue colpe qual è la tua colpa qual è la tua motivazione qual è la causa che ha portato tutta questa circostanza nella tua vita nel tuo matrimonio nella tua famiglia questa sera riconoscerla davanti a Dio umiliati nella posizione più bassa guarda verso l'alto da lì viene l'aiuto il mio aiuto viene dal Signore faccio questa sera voglio pregare per te voglio pregare affinché il Signore ti possa aiutare ad rialzarsi a rialzarti dalla profondità delle cose che stai attraversando e tu possa cominciare di nuovo a gioire per tutte quelle lacrime che tu hai speso di sofferenze di dolore per il tuo corpo per la tua famiglia per il tuo matrimonio per la tua nazione e se noi abbiamo speso queste lacrime è perché si è sciotta la nostra anima davanti a questi periodi difficili che abbiamo attraversate e se noi abbiamo pianto come ho detto è un linguaggio silenzioso che solo Dio può ascoltare non è debolezza si chiama rottura Dio attraverso questo periodo ha rotto il tuo orgoglio la tua vita perché sa che tu oggi puoi rinascere in una nuova creatura le cose vecchie sono passate tutto in Cristo diventeranno nuove perché Egli è un Dio di misericordia un Dio grande tremendo Dio che conosce ogni nostra circostanza però vedi il peccato vedi cosa ha causato questo e questa sera unisci da me per pregare a Lui vogliamo pregare e chiedere al Signore aiuto aiuto non è debolezza alza le mani insieme a me dovunque ti trovi nella tua casa anche se non l'hai fatto prima perché non avevi la forza si schiava insieme dalle circostanze questa sera ti invito da dove viene il mio aiuto il mio aiuto viene dal Signore e quando alzi le mani stai arrendendo te stesso a Dio dicendo come un segno alzando le mani sono qui Signore sono qui ho bisogno di Te senza di Te non possiamo fare nulla così disse i discepoli senza di me non potete fare nulla erano convinti che perché avevano conosciuto Lui tutto poteva andare tranquillo ma ci sono momenti della vita che noi attraversiamo così difficili che se non alziamo le mani a Lui e richiediamo l'urgenza di un suo intervento le cose non cambieranno la puoi prendere come vuoi puoi avere la ragione di questo mondo ma se non c'è Dio che interviene cambia le cose rimarranno in quella maniera sai ad chiedere perdono perché hai riconosciuto di aver sbagliato fallo subito se lo devi fare fallo ora inizi a pregare perché Dio ti dia la forza di poter perdonare prima perdonare te stessa o te stesso per quello che hai fatto e poi dire perdono chi mi ha reso del male padre nel nome di Gesù questa sera voglio pregare per i tanti che si sono messi nella posizione di orgoglio per quello che stanno attraversando ma questo orgoglio signore non ha portato vittoria ma solo portato disperazione abbattimento della nostra vita io chiedo tuo intervento signore tu nella croce avevi ragione non avevi commesso nessuna colpa nessun peccato ma hai detto quella frase storica che tutti noi conosciamo ma pochi le applichiamo padre perdona loro che non sanno quello che fanno tu hai perdonato i tuoi cuzzini signore aiuto questa forza e io questa sera voglio pregare che chi mi sta ascoltando possa perdonare coloro che l'hanno tradita maltrattata offesa o offeso affinché possiamo rialzarci da quella posizione di sconvitta signore qualsiasi parola hanno annunciato pronunciato sentenziato verso di noi chiunque siamo qui presenti io il pastore Petrone non c'è nessuno che non è stato attaccato da parole da situazioni da circostanze perché a volte tutti ci rieghiamo giusti mentre c'è un solo uno giusto che sei tu chiediamo perdono signore per la nostra vita e per la loro vita liberaci signore da questo macigno da questo peso come disse Davide perché ci ha portati a volte tristezza togli la tristezza di quelle parole offensive nella nostra vita di quelle persone che ci hanno aggrediti senza che abbiamo fatto niente forse le abbiamo amati forse le abbiamo aiutati e ora sono contro di me Davide disse potenti dottori di basanne mi hanno aggrediti solo tu mi puoi liberare liberci signore aiutaci a perdonare tu sei l'iddio del perdono grazie per questo signore aiutaci a capire che il nostro orgoglio ha rovinato il nostro amore verso noi stessi e gli altri signore signore Gesù ti prego aiutici a umiliarci stiamo parlando signore tante volte di quello che sta succedendo in America del risveglio come se fosse qualcosa che non possiamo capire raggiungere e gridiamo a te di aiutarci ad averlo ma siamo nella posizione giusta per averlo signore ci siamo umiliati sotto la potente mano tua signore abbiamo riallacciato di noi i rapporti con chi signore ci siamo separati ci siamo messi signore a posto davanti a te solo così tu puoi salvare questa nazione iniziando dalla tua casa dai tuoi figli e se siamo figli dobbiamo obbedire al padre grazie amato spirito santo per come tu stai toccando i cuori questa sera io grido a te di sessammista non c'è niente di difficile per te io grido a te signore perché solo tu puoi parlare il mio cuore signore voglio pregare questa sera per le persone che si sono ammalati a causa di sofferenze emotive che tu possa liberarli dall'oppressione dei pensieri di dolore di sofferenza signore Gesù tanti si sentono non amati perché l'amore che il mondo ha mostrato era un amore di ricambio l'amore che solo tu puoi dare è l'amore incondizionato noi ci aspettavamo questo dagli altri ma non è mai avvenuto mai è stato ricambiato quest'amore solo tu lo puoi mettere nei nostri cuori aiuta quella donna quell'uomo che si è lasciato andare perché non si è sentito amato benedici la sua vita signore riallaccia i rapporti tra padre e figlio riallaccia i rapporti tra mamma e figlia riallaccia i rapporti signore distrutti da un odio umano e carnale e diabolico aiutaci ad amare signore grazie per quello che tu farai e che già stai facendo nel cuore delle persone questa sera mentre io sto pregando amato spirito santo tu stai entrando con la gente perché tu sei il consolatore il paracletos colui che ha fianco colui che sta ora nella spalla ti sta battendo tu che stai sentendo che qualcosa sta battendo nella tua spalla come una mano che si sta posando nella tua spalla come qualcuno che ti sta dicendo sono a fianco a te tu la stai sentendo questa mano che ti sta carezzando di nuovo che ti sta dicendo non sei sola io sono vicino a te io sono il consolatore colui che ti consola che non ti ha mai abbandonato alleluia 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 e attraverso questo momento difficile Signore non stanno mangiando Padre nel nome di Gesù io prego che ritorni l'appetito in questa persona che non sta neanche mangiando Signore perché è sofferente perché ha problemi e nel nome di Gesù dichiaro guarigione nello suo stomaco nell'apparato digerente nel nome di Gesù io sgrido ora ogni malattia nel colon nel nome di Gesù Padre guarisci ora questa persona che sta soffrendo dice l'Echia Padre nel nome di Gesù guarisci da questa sera affinché possa mangiare tutto tu hai creato tutto buono tu ci hai creato in un modo perfetto Signore guarisci in questa sera coloro che hanno problemi allo stomaco nel nome di Gesù Padre voglio pregare per questa persona che ha problemi all'orecchio sinistro a un rumore costante nell'orecchio Padre nel nome di Gesù vada via questo fischio questo suono assordante nel nome di Gesù Padre voglio pregare che questa sofferenza creata dal nemico vada via nel nome di Gesù ora ora urra babascianda la maraccisa stendi le tue mani su di lei Signore tocca la ora Signore nel nome di Gesù Padre voglio pregare ancora perché questo uomo Signore che ha sempre problemi di flusso sanguigno nel naso le venne capillare Signore nel nome di Gesù voglio pregare che tu lo sani ora nel nome di Gesù ricevi guarigione affinché si stagni totalmente questo sangue quando ti abbassi e quando ti rialzi Padre nel nome di Gesù sana l'ora sana l'ora nel nome di Gesù Padre voglio pregare per questa ciste che ha questa persona nella palpebra dell'occhio sinistro nel nome di Gesù io prego che questa ciste se ne vada nella palpebra del tuo occhio nel nome di Gesù dichiaro guarigione sulla tua vita ricevela ora ricevi ora guarigione nel nome di Gesù re che bara shanta la bara che alleluia Signore voglio pregare per questa donna che sta perdendo i capelli tu che stai perdendo i capelli voglio pregare per te stasera questo è un problema di depressione di sofferenza nella tua vita e stai perdendo questi capelli te ne stai accorgendo man mano che pettini i tuoi capelli perdi i capelli perché c'è tanta sofferenza nella tua vita dentro di te e sta spoggiando in questo io voglio pregare questa sera che si si arresti ora la caduta dei capelli nel nome di Gesù che ci sia piena guarigione in te ricevela ora nel nome di Gesù per quanti che è stato ricevendo queste guarigioni per favore fateci sapere se la guarigione è avvenuta mandateci un messaggio perché vogliamo continuare a pregare affinché Dio possa operare il risveglio non è solo nell'America il risveglio è nei nostri cuori per quelli che credono nel Signore e questa televisione parola di vita già un mezzo per portare un risveglio nella tua vita nella tua casa non abbiamo bisogno di andare troppo lontano per trovare Gesù per trovare il soprannaturale solo se tu alzi le tue mani al cielo ricevi dal cielo la risposta e questa sera miracoli avvengono nella tua vita miracoli stanno succedendo io lo decreto ora nel nome di Gesù potenti miracoli stanno avvenendo nella tua vita nel nome di Gesù nel tuo stomaco nel tuo orecchio nelle palpe del tuo occhio nei tuoi capelli io dichiaro potente guarigione alleluia voglio pregare per questo per questo uomo che è barbuzziente che non parla bene mette la mano nella tua bocca io voglio pregare nel nome di Gesù Signore liberalo completamente affinché fluisce nel parlare perché questo è solo un caso di nervosismo nella tua vita per quello che tu hai subito e nel nome di Gesù la pace sta entrando in te la guarigione sta entrando in te comincia a parlare e se ne va se ne va tutte quelle cose che non ti appartengono ricevi piena guarigione nel nome di Gesù non ti abbattere anima mia spera nel Signore non ti abbattere dirlo forte non ti abbattere anima mia spera nel Signore grazie amato Spirito Santo per quello che tu stai facendo questa sera riempi la vita di ognuno con la parola e con i segni perché non c'è manifestazione di parola se non c'è l'evidenza di un segno e noi questa sera i segni ci sono stati noi vedremo la gloria di Dio manifestata perché io so che Dio sta intervenendo nella tua vita solo devi crederci e il miracolo è tuo nel nome di Gesù amén